buonasera a tutti benvenuti a questa lezione ormai da anni che ogni giovedì sera ci troviamo puntuali stasera parleremo della parasha di balac una parasha molto molto particolare molto interessante toccheremo diversi punti ma prima di tutto come di consueto diamo la c'è da ca ognuno a casa per favore di asia da ca grazie da ca salva il mondo da ogni forma di male questa sera dedichiamo questa lezione figuratevi stasera come stavo dicendo dedichiamo la lezione a un signore al papà di due miei amici che è mancato proprio questa settimana itchakam kaji di milano ecco figuratevi la mattina quando c'era il suo funerale due tre giorni fa siamo andati al funerale ok e poche ore dopo nello stesso giorno eravamo a una circoncisione e ho avuto il merito di tenere io il bambino in braccio quando il moelle faceva la circoncisione come vediamo come il mondo veramente una mattina la mattina un signore va via e il pomeriggio un bambino ha appena compiuto otto giorni e fa e fa la milà vediamo come il mondo gira il mondo va avanti abbiamo momenti di gioia momenti di tristezza un'anima viene un'anima va e questo ovviamente fa fa parte del disegno di hashem di come giostrare il mondo per questo che sempre diciamo quando una persona si trova in cattive acque in difficoltà non deve pensare che tutta la sua vita rimarrà in questo modo il mondo gira a volte siamo in alto a volte siamo in basso ma hashem non manda mai sempre in basso una persona ci sono dei momenti difficili nella vita ma questi momenti dobbiamo coglierli per spronarci per avere la forza il coraggio di poter superare questi momenti perché ricordiamoci sempre quando hashem manda delle difficoltà insieme alla difficoltà manda anche la forza necessaria per poter superare ogni difficoltà anzi anzi in realtà le forze le difficoltà vengono per rafforzarci perciò quando c'è un momento difficoltà sicuramente quando questo momento passa noi siamo diventati più forti perciò sempre guardare ogni cosa che succede per il lato positivo cominciamo la lezione la parasha di balak balak era il re di moav balak era il re di una piccola cittadina e lui si era impaurito del popolo ebraico perché vedeva che da quando gli ebrei erano usciti dall'egitto tutto il periodo che erano nel deserto dovunque loro andavano se qualcuno faceva loro la guerra gli ebrei vincevano sempre ovviamente gli ebrei non cominciavano mai come oggi noi non cominciamo mai a fare una guerra soltanto quando gli ebrei passavano certe nazioni avevano paura di loro e facevano la guerra e loro dovevano difendersi e loro vincevano hanno combattuto og il gigante og hanno fatto diverse guerre hanno vinto allora quando stavano andando e arrivando vicino al territorio di midian del dove c'era il re balak questo re si spaventa si spaventa per per la sua nazione per il suo popolo esseranno gli ebrei ci uccideranno e visto che era una persona di carattere un po' debole ed era un grande era una persona molto molto cattiva e lui era tra l'altro oltre a essere una persona cattiva era un grande antisemita odiava gli ebrei con tutta la sua forza cosa fa vede che lui da solo non riesce a sconfiggere a combattere gli ebrei decide di chiamare bilam bilam era un profeta all'epoca che era appunto nello stesso periodo di mosè era un grandissimo profeta il più grande profeta della storia delle nazioni ecco come mai c'era e c'è scritto che lui era un profeta allo stesso livello di mosè perciò noi avevamo come riferimento noi abbiamo come riferimento mosè come grandezza di spiritualità e di profezia le nazioni avevano bilam perché e noi vediamo adesso che bilam era anche lui un grande rasha un grande antisemita allora perché dio ha dato una persona del genere così tante forze spirituali perché se un giorno le nazioni vengono a dire è va bene ma voi ebrei e avete ricevuto la torà voi ebrei avete avuto mosè al alla vostra leadership allora sicuramente voi siete arrivati dove siete arrivati grande grazie al fatto che mosevi vi guidava allora dio ha voluto dare anche a loro anche a tutte le varie nazioni un profeta della stessa forza di mosè figuratevi solo che questa persona qua come vedremo ha preferito usare le sue forze le sue capacità che dio gli ha dato per un qualcosa di negativo anziché usare la sua forza per qualcosa di positivo adesso la storia funziona così lui lo manda balac il re manda dei messaggeri da bilam a venire a maledire gli ebrei perché lui aveva una grande forza nella parola molto brevemente all'inizio lui non accetta poi alla fine viene perché ovviamente si parlava di tanti soldi gli offrivano soldi per venire e lui stesso odiava di per sé gli ebrei ok arriva da bilam per da balac però prima ancora di arrivare la torà racconta il suo viaggio la torà racconta che dio prima che lui parte dice chi sono queste persone che sono venute a trovarti e lui dice sono venuti a chiamarmi di andare a balac per maledire di ebrei però io lui ha detto subito io non posso fare un qualcosa se dio non mi permette questo è un popolo ben detto da dio allora dio dice vabbè se già devi andare vai però dirai quello che io ti metterò in bocca e ovviamente balac sapeva non era un stolto era un era un veramente un grande personaggio e sapeva benissimo che lui non poteva avere nessuna forza sul popolo ebraico però guardate una persona così alto locata alto livello importante spiritualmente elevato che dio gli ha dato queste forze aveva un odio talmente viscerale contro gli ebrei che pur sapendo pur conoscendo che Hashem non non lascerebbe mai fare qualcosa contro gli ebrei comunque ha provato a farlo comunque ha detto ci provo vediamo magari riuscirò in un momento perché lui conosceva i momenti dove Hashem magari erano dei momenti della giornata che Hashem era magari rigoroso nei confronti del popolo ebraico allora lui conoscendo questi momenti in quei momenti diceva delle cose cercava di dire delle maledizioni per cogliere l'attimo che dio ha arrabbiato magari sull'ebrei per poter veramente riuscire nel suo intento di maledire gli ebrei però vediamo che niente di tutto ciò è successo però lui ci ha provato la teoria racconta il suo viaggio lui prende il suo asino e comincia ad andare verso appunto il re di Balak il re Balak a un certo punto la Torah racconta che il suo asino loro entrano in una via stretta dove ci sono due muri diciamo per strada e a un certo punto l'asino va tutto da una parte una cosa insolita a quel momento Bilam dà un colpo sull'asino per farlo tornare in mezzo per tre volte di seguito Bilam picchia il suo asino o la sua asina a un certo punto l'asino uno delle volte spostandosi va contro un muro e Bilam si schiaccia il piede sul muro e di nuovo una delle tre volte da quelle che lui ha picchiato l'asino a un certo punto l'asino una cosa stranissima che ne discuteremo proprio stasera l'asino comincia a parlare ma non è un midrash o un racconto la Torah viene a scrivere che miracolosamente l'asino comincia a parlare e gli dice perché mi picchi tu lo sai che io sono sempre stato fedele a te dal primo giorno ero il tuo asino dovunque sei andato di tuo portato per dirgli stolto se sto facendo qualcosa di strano dopo anni e anni che ti servo vuol dire che c'è un qualcosa sotto no perché non lo capisci in quel momento la Torah racconta che Bilam vede davanti a sé un angelo divino con una spada in mano che ovviamente voleva uccidere Bilam allora cosa succede qua? l'asino aveva visto quest'angelo per questo si spostava da una parte all'altra per schivare l'angelo per salvare il suo padrone e in quel momento vediamo che l'asino riesce a vedere ciò che il suo capo Bilam lo stregone non riesce a vedere e di norma Bilam abbiamo detto che vedeva angeli vedeva forme spirituali Dio li parlava era veramente un Mosè delle nazioni e quando vede questo capisce che l'asino in realtà stava cercando di salvarlo e in questo momento qua c'è un attimo che lui vede che il suo asino è riuscito a vedere quello che lui non ha visto e addirittura il suo asino ha la capacità di parlare ma la domanda è come mai una cosa così strana come mai la Torah deve raccontarci come mai ci deve essere un miracolo tale che un asino possa prima di tutto parlare ma nel vero senso parlare e che lui riesca a vedere un angelo di Hashem come mai Hashem fa un miracolo noi sappiamo che la Torah ci racconta sempre che Dio non fa mai miracoli inutili fa sempre dei miracoli quando veramente c'è bisogno e qua invece quando Dio stesso gli aveva già detto vai e dirai quello che io dico infatti l'angelo quando viene e lui lo vede dice dove stai andando, cosa stai facendo però ricordati che dirai soltanto quello che ti metterò in bocca perciò di nuovo per dire che l'angelo quando è venuto con la spada non ha aggiunto niente di nuovo ma ha ripetuto qualcosa che Dio gli aveva già detto la notte prima a Bilam allora di nuovo perché questo miracolo che un asino possa vedere un angelo e addirittura parlare e noi sappiamo che oltre al fatto che Dio non vuole mai fare dei miracoli inutili perché Dio vuole sempre mantenere la natura di questo mondo e il miracolo è fuori dalla natura ma anche quando deve fare il miracolo Dio preferisce sempre almeno farlo il più possibile che non si riconosca che è un miracolo ma che sembri un qualcosa di naturale per nascondere il fatto che sta facendo un miracolo però qui invece era un miracolo visivo che un asino sta parlando apriamo una parentesi prima di dare la risposta e capire il concetto dell'asino che parla una cosa un po' interessante una parentesi qualche c'è scritto nella pirchia a vuota nel massimo dei padri che il primo venerdì l'ultimo giorno della creazione del mondo che era venerdì perché poi entrava Shabbat quel venerdì lì c'è scritto che un attimo poco prima di Shabbat un istante prima di Shabbat Dio ha creato dicono le massime dei padri dieci ultime cose vuol dire Dio il primo giorno ha creato il cielo la terra il sole la luna tutte le varie cose poi venerdì ha creato Adamo ed Eva ma un attimo prima che sorgesse Shabbat che entrasse Shabbat e lui smettesse appunto di lavorare e di creare ha voluto gli ultimi attimi creare dieci ultime cose e da qua la torace insegna che nella vita bisogna sempre essere attivi anche un attimo prima del sempre essere in stadio di crescere, migliorare e creare lui a Shabbat fa in questo ultimo attimo prima di Shabbat dieci cose tre di queste cose erano tre bocche cosa vuol dire uno la prima cosa era la bocca della terra abbiamo letto qualche paraccia scorsa due settimane fa la storia di Korach Korach era quello che andava a fare la rivolta contro Mosè alla fine della storia la terra si è aperta e ha inghiottito Korach e la sua famiglia perciò la bocca della terra che si è aperta Dio l'aveva già creata il primo Shabbat l'ante Shabbat della prima volta la seconda bocca che Dio ha creato quel Shabbat lì era la bocca del pozzo tutti i quarant'anni che gli erano in deserto e ricevevano l'acqua grazie a Miriam la sorella di Mosè Aronne ecco questo pozzo aveva una bocca questa bocca è stata creata già perciò Dio aveva già previsto l'uscita dall'Egitto l'acqua e quant'altro la terza cosa che Dio ha creato in quel momento era la bocca dell'asino perciò l'asino che questo asino in questione che ha parlato la sua bocca è già stata creata al sesto giorno della creazione vuol dire che queste tre cose sono cose talmente importanti che sono state fatte proprio un attimo prima di Shabbat quando a Shabbat noi prima di Shabbat facciamo mettiamo a posto la casa facciamo le ultime cose le ultime cose sicuramente nessuno va un attimo prima di Shabbat a fare qualcosa di di inutile di secondario se si fa un qualcosa prima di Shabbat vuol dire che è un qualcosa di importante di farlo prima che venga Shabbat perciò queste dieci cose erano dieci cose importantissime appunto queste tre cose sono cose importanti la bocca dell'asino allora noi ci chiediamo cos'ha di così importante la bocca dell'asino che Dio un attimo prima di Shabbat che un giorno così santo va a creare la bocca dell'asino interessante notare che dal momento di la creazione del mondo fino a Bilam e Balak sono passati circa 3.000 anni perciò quest'asino qui con la sua bocca era già nato già è stato creato 3.000 anni prima com'è possibile che un asino possa vivere per 3.000 anni anzi si dice che questo asino non soltanto era l'asino che ha portato Bilam era anche l'asino che Abramo ha usato era anche l'asino che Mosè ha usato quando ha portato la famiglia in Egitto e sarà lo stesso asino che cavalcherà anche Mashiach è una cosa molto strana come è possibile che un asino possa vivere migliaia di anni allora la storia è la seguente quando è una chicca è una cosa interessante da raccontare quando Adamo ed Eva hanno mangiato il frutto proibito cioè Eva ha mangiato il frutto proibito e poi l'ha dato da mangiare anche ad Adamo ma non soltanto ad Adamo c'è un riferimento che ci fa capire che Eva questo frutto proibito l'ha dato in realtà a tutti gli animali allora cosa succede? noi sappiamo che il frutto ha portato la morte al mondo perché prima la vita doveva essere eterna e Dio ha detto maledirò il mondo con una delle cose era la morte prima non c'era adesso è nata la morte allora tutti quegli animali gli uomini Adamo ed Eva e gli animali che hanno mangiato il frutto hanno avuto mortalità non immediatamente ma l'idea che gli animali moriranno e gli umani moriranno ok? ma in quel momento lì quando era questa storia? abbiamo detto che era venerdì diciamo a tre quarti della giornata verso il pomeriggio perciò in quel momento lì l'asino non era ancora stato creato perché l'asino abbiamo detto che è stato creato dopo ovvero pochi istanti prima di Shabbat perciò ore dopo perciò visto che questo asino qua in questione non era ancora nato non era ancora stato creato e perciò non aveva come tutti gli altri animali mangiato il frutto proibito questo animale non aveva mortalità perciò aveva una lunga vita adesso non che questo sia una cosa importante ma era un qualcosa di interessante da da parlarne perciò aperta e chiusa la parentesi ma torniamo adesso al punto di partenza perché Dio ha dovuto fare un miracolo così evidente che un asino possa vedere spiritualità e possa addirittura parlare ecco per capire questo concetto qua che è un concetto veramente molto veramente vedremo quando finirò di raccontare la lezione è una cosa veramente che tocca al cuore però prima come al solito cominciamo con una storia un avvenimento in America una storia di tanti anni fa c'era un ebreo che si trovava in ospedale per diversi mesi questo ospedale non era vicino a casa sua perciò la moglie non poteva proprio ogni giorno venire era un'altra città tipo un paesino perciò la moglie non poteva per forza di cose venire ogni giorno a trovarlo perciò lui lei veniva di tanto in tanto perciò lui questi mesi che era da solo in questo ospedale si innamora della sua infermiera di quella signora che lo curava e tra loro due giorno dopo giorno dopo giorno nasce questo amore a tal punto che entrambi sposati decidono si mettono d'accordo che appena lui starà bene scappano insieme lui lascia la famiglia lei lascia la famiglia e andranno a qualche altra parte dimenticheranno e vorranno vivere il loro amore arriva il fatidico giorno che lui deve essere rilasciato dall'ospedale quando stava guarendo che era guarito a un certo punto arriva una telefonata in camera sua lui alza il telefono e dall'altra parte del telefono che c'era niente meno che una storia incredibile niente meno che il segretario del Rebbe Rav Khadakov anziano era tutto curvo vecchio io l'ho conosciuto il rabbino Khadakov dice ah finalmente ti trovo ho chiamato tutti l'ospedale finché ti ho trovato e questo qua fa ma scusi ma lei chi è? cos'è che vuole da me? dice io sono il segretario del Rebbe di Lubavitch il quale mi sta dicendo di cercarti di trovarti e dirti vai immediatamente a casa tua da tua moglie questo qua non capisce e chiude il telefono e non fa caso dopo un'ora di nuovo telefona il segretario e dice il Rebbe sta chiedendo se tu ti stai organizzando per tornare a casa tua a quel punto quando questa persona qua ha visto una cosa del genere lui non ha mai in vita sua visitato il Rebbe lui era in California Rebbe a New York vuol dire figuratevi tre ore di fuso orario all'interno dell'America tutta un'altra costa tutta un'altra parte bisogna andare in aereo questa persona non ha mai né scritto una lettera al Rebbe né andato a visitare niente non ha mai avuto nessun tipo di contatto con il Rebbe di colpo vede che questo Rebbe qua dall'altra parte dell'America sa di lui sa le sue intenzioni che vuole scappare con una donna già sposata eccetera eccetera e vuole lasciare la sua famiglia e lo trova dice qua c'è qualcosa di strano c'è una profezia qua c'è qualcosa che non posso andare contro è evidente è palese che c'è un qualcosa un segnale da Hashem e cosa succede? lui decide giustamente quando vede una cosa così palese di non seguire i suoi sentimenti del cuore che ovviamente erano passeggeri e torna finalmente dalla sua famiglia da sua moglie e dai suoi figli cosa cosa impariamo da questa storia qua che ho voluto portare? un inizio di spiegare la domanda di Bilam perché l'asino parlava perché Hashem cari amici manda a volte dei segnali forti alle persone per dire ehi che cosa stai facendo? apri gli occhi riprenditi torna in te stesso non vedi che ti stai rovinando la vita? non vedi che stai sbagliando che stai andando dalla parte opposta di dove dovresti andare? ecco questa persona qua ha visto questo che Dio gli sta mandando un messaggio tramite il tzaddik della generazione svegliati hai una famiglia cosa stai facendo adesso? ecco questo era il concetto di Bilam con l'asino perché di colpo l'asino comincia a parlare proprio per svegliare la coscienza di Bilam e adesso mi spiego meglio fino a quel momento la fino a prima che l'asino comincia a parlare la Torah quando si usa il nome di Dio sappiamo che Dio ha diversi nomi e ogni nome caratterizza una certa comportamento di Dio abbiamo Elohim poi abbiamo Yud Kevav che abbiamo diversi nomi adesso finora ogni volta che la Torah parla di questa vicenda usano il nome Elohim Elohim cosa rappresenta? il giudizio quando Dio è seduto sul trono della giustizia quando il re giudica quando Dio è rigoroso quando in quel momento Dio è duro invece dal momento che l'asino comincia a parlare in poi che se andate a vedere nella Torah non c'è più il nome di Elohim della durezza c'è il nome di Yud Kevav Kei che cos'è quella? Rachamim la misericordia di Hashem cosa vuol dire? che in quel momento lì da quando l'asino ha cominciato a parlare c'è un cambiamento prima era il Dio della giustizia adesso è il Dio della misericordia per dirci che cosa? che a volte Hashem appunto è duro altre volte Hashem è misericordioso amore questo dimostra che l'amore che Hashem ha per una persona per salvarlo prima ancora che diventi troppo tardi anche anche un Rasha una persona antisemita come lo era Bilam che andava con tutto il suo odio pur capendo che Dio è il padrone del mondo lui lo sapeva che soltanto Dio poteva permettergli di maledire eppure lui ci ha provato in tutti i modi anche una persona così infima che addirittura sfida Dio Dio ha cercato di salvarlo Dio cambia nome da Elohim a Yudkei Vavkei dove c'è misericordia per salvare un suo figlio incredibile un padre per il proprio figlio fa di tutto fa addirittura parlare un asino dà addirittura capacità a un asino di vedere un angelo con una spada in mano andando appunto contro la natura del mondo da qua impariamo cari amici che in realtà tutto questo questa storia succede anche a noi ogni giorno non sicuramente che un asino viene a parlarci ma succedono delle cose nella nostra vita magari delle difficoltà magari dei piccoli accorgimenti dei piccoli incidenti dei piccole cose o grandi cose ecco quando succedono delle cose non normali non dobbiamo pensare che siano cose casuali è un incidente no niente casuale ricordiamoci Dio a noi non ci parla verbalmente Dio a noi parla con le cose che succedono le situazioni della vita Dio a noi parla con segnali questo è il punto che noi dobbiamo imparare uno dei punti di imparare da questa parasha quando Dio ti dà un segnale quando ti succede un qualcosa di non normale di non naturale non pensare che è un incidente impara che questo è un segnale che Dio ti sta lanciando per dire ehi attenzione stai sbagliando una ruota si buca in un posto sbagliato è un segnale può essere qualsiasi segnale può essere difficoltà nella vita può essere sofferenza può essere qualsiasi forma io non sono Dio non lo so ma quando ci succede qualcosa poniamoci delle domande forse Dio mi sta parlando forse Dio sta cercando di salvarmi noi purtroppo siamo abituati a vedere ah la vita mi va male Dio ha arrabbiato con me invece è proprio contrario Dio è misericordioso con te e ti fa ti manda delle difficoltà delle problematiche per svegliarti a farti capire che lui ti sta parlando ti sta mandando un segnale per dirti ehi questa cosa che ti mando non è per punirti ma ti amo così tanto che ti mando un messaggio che tu devi cogliere al volo per non continuare a sbagliare per non continuare ad andare nella strada sbagliata per cominciare a mettere a posto un po' te stesso e la tua condotta perciò impariamo anche che dobbiamo cercare in tutti i modi di salvare il prossimo dal peccato perché tutti noi abbiamo una scintilla divina e possiamo salvarci infatti infatti noi vediamo c'è un fattore molto strano nella parasha che la parasha si chiama Balak noi non abbiamo una parasha che si chiama Mosè Abramo Isacco Giacomo ma Balak che era il re di Moab che era così cattivo la Torah dà una parasha a nome suo come mai cosa ha meritato Balak di avere un nome della parasha una seconda domanda Bilam questo rasha quando lui va a maledire abbiamo detto che Dio trasformava tutte le sue parole in altissime benedizioni ok una delle profezie che lui ha detto in questo momento è della venuta di Mashiach tutta la Torah non scrive della venuta di Mashiach arriva Bilam questo rasha e lui di colpa viene a profetizzare del Messia come è possibile qua abbiamo due domande fortissime una come mai Balak riceve il nome della Torah e noi sappiamo quello che è nella Torah rimane in eterno vuol dire il nome di Balak rimane in eterno perché è un nome dato dalla parasha come mai queste due persone così infime hanno tutte e due un qualcosa di grandioso ebbene Balak era il re di Moab chi abitava chi era la grande donna di Moab Ruth la Moabita Ruth che si era convertita all'ebraismo Ruth che era che ha fatto che da lei discendeva il re Davide e da re Davide discende Mashiach il Messia perciò qua vediamo Balak era l'avo di re Davide che da re Davide viene fuori il Messia il salvatore di Israele da chi viene? da Balak da colui che vuole distruggere Israele distruggere gli ebrei Bilam chi era Bilam voleva distruggere gli ebrei eppure da lui è venuto fuori che cosa? la profezia della salvezza finale tramite il Messia cosa vediamo qua? che due persone così malvagie alla fin fine hanno un qualcosa di si può trovare un qualcosa anche di positivo da uno viene il Messia e dall'altro viene la la conoscenza la profezia di Messia cosa vuol dire tutto questo? che anche che noi dobbiamo non dobbiamo mai perdere fiducia nell'umanità vediamo una persona che è lontana una persona malvagia non dobbiamo perdere fiducia in lui non possiamo mai sapere cosa verrà fuori da lui guardiamo per esempio il faraone il grande malvagio faraone con tutto quello che ha fatto il re d'Egitto lui ha avuto una figlia Batia chi ha salvato Mose dalle acque? la figlia del faraone noi non possiamo mai mai sapere da una persona così negativa cosa possa venire fuori dobbiamo avere fede nell'umano nell'umanità nelle persone dobbiamo incoraggiare le persone credere fermamente che anche da una persona cattiva non puoi mai sapere si può nascondere un qualcosa che noi non conosciamo che possa venire fuori da lui un qualcosa di grandioso appunto come Mashiach e questo ci fa insegnare anche non soltanto nel prossimo quando noi guardiamo noi stessi la nostra vita la nostra condotta e noi vediamo guardati ognuno dice stesso sei un Rasha come Balak come Bilam ti allontani da Dio anche se una persona veramente pensa a questo di se stesso ma alla fine da Balak e Bilam viene fuori il Messia perciò anche dentro di noi non dobbiamo mai pensare che ormai siamo così così lontani da da essere fuori da pista totalmente o che Dio ci vuole dimenticare al contrario dobbiamo anche guardare anche se siamo caduti veramente in basso sempre vedere che possiamo sempre risalire perciò quando vediamo che Mosè tornando al punto che Dio ha fatto parlare l'asino perché l'ha fatto? per scuotere Bilam a svegliarlo che sta andando nella strada sbagliata mi raccomando vai lì devi soltanto dire buone cose ovviamente lui era così che alla fine anche non ha accettato non ha colto non ha colto diciamo il messaggio però almeno Dio ha provato a salvarlo Dio non guarda se la persona coglierà il punto il messaggio o no Dio fa il suo anche noi non dobbiamo mai dire sono sicuro che anche se gli dirò qualcosa se penso bene di lui se cercherò di aiutarlo sono sicuro che lui non non coglierà se Dio l'ha fatto possiamo fare anche noi e sicuramente Dio sapeva che lui non avrebbe accettato non avrebbe colto il punto infatti infatti per chiudere quella storia lì anche lì dove lui non riusciva più a maledire il popolo ebraico e uscirono soltanto benedizioni alla fine Balak il re dice ma scusami se non puoi maledirli almeno non benedirli e allora lì dopo varie e vari tentativi Bilam dice senti Balak io te l'avevo già detto io potrò soltanto dire quello che Hashem mi metterà in bocca ho provato con tutto me stesso ma non sono riuscito però vieni che ti do un consiglio perciò qua di nuovo vediamo di nuovo la cattiveria di questo uomo la malvagità dice il Dio degli ebrei odia quando c'è promiscuità manda le tue ragazze le più belle mandale a sedurre gli ebrei se riusciranno a sedurli lì sì che Dio si arrabbierà con loro e li farà del male cosa cosa succede il re ascolta il consiglio di Bilam manda le ragazze e in quella situazione là 24.000 ebrei sono morti lì dove la maledizione di Bilam non è riuscita la sua astuzia la sua cattiveria è riuscita alla fine a fare male al popolo 24.000 persone sono morte a causa sua cosa vediamo qua di nuovo Dio ha provato con tutto se stesso a salvare Bilam era suo figlio ogni creatura del mondo è figlio di Dio Bilam è andato contro di Dio sapendo che è la grandezza di Dio e anche quando non è riuscito è riuscita con la cattiveria con l'astuzia vediamo quanto questa persona era infima eppure Dio credeva in Lui io penso che noi non conosciamo nessuno che sia cattivo come Bilam sicuramente noi non siamo così infimi quanto Bilam dobbiamo noi credere fino all'ultimo credere nelle persone credere in noi stessi e quando noi guardiamo qualcuno in un lato positivo e diamo buone con buoni commenti come la settimana scorsa abbiamo studiato riusciremo prima o poi se sono parole che escono dal cuore sicuramente entreranno nel cuore di chi ci ascolta ma andiamo avanti non è finita la domanda è Bilam aveva forza nella parola abbiamo detto e lui vedeva vedeva gli angeli perché la domanda qui è perché un asino abbiamo capito che l'asino doveva dare il messaggio a Bilam di aprire gli occhi ma perché proprio un asino perché Dio non ha fatto un altro tipo di miracolo che ne so il mare che si apre qualcosa di particolare che non sia un asino che parla tra tutti i vari miracoli che potevano svegliare perché Dio ha scelto proprio un asino che parla dice Hashem Bilam guarda che sono io che ti ho dato queste capacità io ti ho dato la capacità di profezia di potere nella bocca di vedere spiritualità di vedere angeli io te l'ho data però come te l'ho data te la posso togliere non pensare che tu di per te sei meritevole di avere queste forze o hai lavorato su te stesso per avere queste forze spirituali no ho dovuto dare una persona queste forze e le ho date a te così come te le ho date vedi che te le ho tolte e non soltanto a chi le do ha un asino e questo è il punto cos'è l'asino? è l'animale più stupido che c'è lo sappiamo ancora ancora l'avesse dato a un cavallo che c'è un'intelligenza o un altro no Dio tra tutti gli animali alla volpe no Dio tra tutti gli animali che poteva scegliere di fare parlare miracolosamente ha scelto l'asino per dire stai attento non credere che tu hai delle forze io ti ho dato delle forze ma adesso le forze le ho tolte da te e tu adesso di colpo ti trovi a essere inferiore al tuo asino il tuo asino parla e tu non riesci a parlare il tuo asino vede un angelo che tu non sei riuscito a vedere che di solito riuscivi questo è il messaggio questo è il messaggio ognuno di noi ha delle capacità particolari tutti noi abbiamo delle cose grandiosi che nessun altro ha che solo noi abbiamo però dobbiamo usarle per il bene lui ha usato le sue potenzialità per il male per uccidere per distruggere noi noi dobbiamo imparare da lui a capire che quelle doti che Dio ci ha dato di non usarle per il male ma al contrario usarle per il bene guardiamo oggi nel mondo i grandi rapinatori i grandi assassini cosa fanno? hanno delle doti speciali hanno delle capacità di andare a scassinare una banca ma anziché usare queste capacità questa bravura per rubare perché non la usano per fare qualcosa di positivo? perché? perché rubare è più facile o qualsiasi persona che usa le sue doti per il male questo è sbagliato Dio ti dice ti do delle qualità ma devi essere capace di usarle per il bene e non pensare che le hai guadagnate per la tua bravura chi è il maestro di questo? Mosè su Mosè c'è scritto Mosè era il numero uno Mosè parlava con Dio noi stiamo qui a raccontare chi era Mosè eppure la Torah viene a scrivere Mosè era la persona più umile sulla faccia della terra vuol dire non soltanto alla sua epoca ma in eterno anche in futuro non ci sarà mai una persona tanto umile quanto Mosè la domanda è ma cos'è Mosè era un falso umile? Mosè non sapeva che era grandioso? non vedeva che parlava con Dio? non vedeva i superpoteri che aveva i miracoli che lui faceva? cosa vuol dire che era la persona più umile? allora dice la spiegazione è questa proprio perché Mosè vedeva tutti i superpoteri tutti i miracoli che Dio faceva tramite lui la sua tutto ovviamente Mosè capiva non era stupido ma era questo il punto più lui vedeva la sua grandezza più era umile perché capiva che era un regalo di Dio infatti Mosè diceva nel pensiero io ho avuto tutto un regalo da Dio se questo regalo l'avesse dato a qualcun altro sicuramente avrebbe fatto meglio di me questa era l'umiltà di Mosè che non prendeva un per cento di credito di tutto quello che lui ha fatto tutto soltanto Hashem e adesso vogliamo arrivare alla conclusione voglio raccontarvi due storie che vengono a spiegarci tutto questo che abbiamo studiato stasera ma vorrei aggiungere ancora una frase c'è un passo della Torah della Parashah che appunto è una delle profezie che Bilam ha detto agli ebrei era la seguente lui quando parla degli ebrei dice è un popolo leggo la traduzione è un popolo che si alza come un leone vuol dire forte come un leone e questo popolo non si coricherà finché non avrà consumato o sbranato la sua preda cosa sta parlando qua Mosè Bilam sicuramente è una poesia perché tutte le sue profezie erano poetiche in linguaggio poetico anche qui io lo dico in italiano ma è proprio tutta una poesia un popolo che si alza come un leone non si coricherà finché non avrà consumato la sua preda ovviamente non si parla della forza fisica ma si parla delle mitzvot che il popolo ebraico siamo forti come un leone e tutte le mitzvot che riusciamo a fare le vogliamo sbranare vogliamo prendere e farle con foga così come un leone quando vede la preda si butta su di lui e con tutta la sua forza lo sbrana il popolo ebraico dice Bilam è come un leone quando vede un'occasione di fare una mitzvah aiutare il prossimo pregare fare studiato subito acchiappiamo la mitzvah e non ce la facciamo scappare perciò qua lui viene a dire il popolo ebraico è forte nella sua fede nella sua morale forte come un leone che sbrana le sue prede e vi voglio raccontare due storie come ho detto la prima storia è la storia di un grande chassid Rabbi Mendel Futterfass già abbiamo parlato altre volte di lui delle sue storie lui era un contemporaneo è mancato un decennio fa forse o due decenni fa che l'ho visto l'ho conosciuto e gli ho dato la mano lui era in Russia era un chassid era un rabbino aveva un commercio ma in realtà la sua vita la dedicava per per Dio per aiutare il prossimo lui aveva era riconosciuto lui aveva creato questo situazione che lui riusciva a falsificare documenti per fare uscire gli ebrei dalla Russia facendo finta che loro fossero dall'Ungheria o da altri posti allora falsificando i documenti li faceva scappare per dare a loro modo di vivere ovviamente è riuscito a mandare via tutti dalla Russia sua moglie e suo figlio anche sono usciti con centinaia di famiglie alla fine lui è stato beccato e l'hanno messo in prigione nella peggiore in Siberia lì è difficile uscire vivi dalla Siberia lui è stato lì dieci anni se non di più e lui racconta quando poi è uscito ha raccontato tante storie di cose che sono successe in prigione una di queste storie è una sera erano in una cella tante persone in una cella piccola e uno di loro comincia a piangere mezza la notte ricordando di quello che lui era in passato e dice eh io quando ero passato prima di essere un prigioniero ero un scienziato era una persona importantissima e sono arrivati questi russi lui stesso era russo perché la Russia loro tutti quelli che erano grandi personaggi a un certo punto diventavano un po' pericolosi per lo zar e cosa facevano? li mettevano in prigione per l'impera cosa succede? lui dice io ero un grande personaggio adesso sono qua non sono più niente quando lui comincia a parlare un altro comincia a dire eh ma io ero un grande dottore avevo tanti soldi curavo le persone mantenevo le famiglie adesso sono qua mi hanno tolto tutto sono un schiavo sono un prigioniero man mano ognuno di loro continuava a raccontare quello che erano prima della prigione e quello che sono adesso dei poveracci quando arriva e vedono che il rabbino non dice niente dicono ma cos'è tu si vede se non hai niente da rimpiangere si vede che eri un nulla tenente prima e lo sai ancora adesso perché dice no in realtà io non ero un nulla tenente anzi ero benestante avevo una fabbrica avevo un lavoro sì questo posso dire che me l'han tolto però c'è una cosa che per me era più importante del mio lavoro che loro non sono riusciti a togliermi perciò io sono rimasto uguale prima e sono rimasto uguale adesso che cosa prima la mattina mi alzavo e pensavo a come servire Dio durante il giorno pensavo a come servire Dio prima di dormire pensavo a Dio a come servire Dio ero un chassid e tutto il giorno servivo Dio nel massimo del mio modo adesso che sono in prigione è uguale la mattina mi sveglio e penso come a nonostante difficoltà a servire Dio e faccio le stesse cose che facevo prima il mio amore per Dio che è interno a me la mia forza interiore nessuno me la può togliere ero un chassid prima e rimango un chassid adesso la seconda storia la seconda storia è di questa ragazza ebrea che si chiamava Eda lei era una ragazza era una ballerina in Ungheria aveva studiato per fare danza classica aveva tanto talento e quando era cominciata la guerra le hanno proibito perché lei era ebrea di continuare a studiare di continuare a fare teatro e quant'altro ovviamente da lì a breve la sua famiglia viene deportata e vanno verso Auschwitz prima di arrivare alle porte proprio di entrare nel campo di Auschwitz lei con sua madre la madre dice una cosa Eda io non so qua cosa sta succedendo non sapevano ancora però ricordati una cosa Eda la gente può prenderti può toglierti tutto al di fuori di una cosa che tu ti menti in testa di fare un qualcosa che tu hai dentro di te nessuno te la può togliere pochi attimi dopo sono entrati la madre è subito è stata mandata subito direttamente nei forni e Eda rimane in vita perciò lei ha visto i suoi genitori padre e madre andare a cremare dopo in quel momento lì un'ora dopo Mengele il Marche Maud dice ho sentito che c'è qua una ballerina con tanto talento chi è? si faccia avanti e Eda si fa avanti e lui dice balla voglio vedere che talento hai potete immaginare in questo momento questa ragazza che ha appena visto sua madre diventare fumo suo padre sparire potete immaginare che voglia lei aveva di ballare davanti a chi davanti a colui che ha ucciso i suoi genitori sicuramente non aveva voglia ma proprio in quel momento gli è venuta in mente l'ultima frase che poco prima la madre le aveva detto Eda ti possono togliere tutto meno quello che hai dentro di te che ti sei messa in testa che vivi con quello questo nessuno te lo può togliere e allora lei in quel momento è andata contro i suoi sentimenti e ha cominciato a ballare in un modo che in vita sua non ha ballato con così tanto enfasi non ha mai fatto un ballo così bello lei racconta lei ha chiuso gli occhi e immaginava di essere nel più grande teatro dell'Ungheria e dopo che lei ha fatto un ballo così meraviglioso Mengele le ha tirato una pagnotta in regalo una pagnotta lei stava morendo di fame non mangiava chissà da quanti giorni nel viaggio non ha mangiato non ha bevuto stava morendo di fame e quella pagnotta per lei era il tutto potete immaginare una pagnotta intera a una persona era tantissimo lei ovviamente era di buon animo è andata subito nel baraccone e ha condiviso la sua pagnotta con delle sue amiche Eda lei è viva ancora è anziana è viva ed è una psicologa che abita in America ha scritto dei libri e altre volte abbiamo parlato anche di lei su internet lo trovate cosa succede? lei ha condiviso qualcosa di suo con le sue amiche il tempo passa e più si rimaneva lì più si diventava deboli stanchi ammalati affamati e c'era un momento a un certo punto che lei non riusciva più era così debole che non riusciva più a camminare e lì se vedevano che tu sei debole subito ti facevano fuori perché tenevano chi era forte per lavorare ma chi era debole subito lo uccidevano le sue amiche che prima qualche mese prima lei aveva condiviso il suo pane con loro quando hanno visto che lei in questo momento stava per cedere non aveva più forza di camminare per salvarle la vita la reggevano da dietro affinché lei potesse camminare e non dare all'occhio ai tedeschi che lei sta che lei è debole perché loro hanno ripagato la bontà che lei ha avuto mesi prima a dare il suo pane a loro cos'è il messaggio di tutte queste due storie del rabbino e di questa ballerina la Torah dice siete indistruttibili nessuno può distruggere voi perché siete come un leone la Torah lo dice nessuno può distruggere quello che voi avete dentro il maestro dice io ero un chassid perché Dio è dentro di me e dentro di me c'è l'amore per Dio perciò non è cambiato niente la ballerina ha capito che quello che lei ha dentro nessuno potrà mai rubarle possono rubarle i vestiti possono rubarle il mangiare possono rubarle la dignità i capelli rasati tutto le hanno rubato ma il suo amore per la danza la sua che era dentro di lei questo nessuno gliel'ha mai tolto questo cari amici è il messaggio che dobbiamo capire Bil'am era una persona malvagia e lui ha usato il suo dentro per qualcosa di male noi dobbiamo imparare che quello che abbiamo dentro è la cosa più importante non guardare le esteriorità di una persona le brutte azioni bisogna avere fiducia e fede in noi stessi e nel prossimo perché quello che veramente abbiamo dentro nessuno ce lo può togliere cosa abbiamo dentro nefesh haelokit un'anima divina un fuoco che brucia dentro di noi anche magari se facciamo le peggior cose non teniamo le mitzvot non è importante dentro c'è un cuore che batte c'è un'anima che brucia ed è quella vera cosa che dobbiamo seguire come quel chassit ero un servitore di Dio prima e lo sono anche adesso niente al mondo ci potrà fermare da essere persone che amano Hashem chiediamo a tutti per favore di 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 mandare avanti questa lezione condividerla con gli amici di parlarne a tavola e ricordiamo che tutte le nostre lezioni sono registrate su gintv.it possa Hashem veramente darci la forza il coraggio di vedere il bene in noi stessi e di vedere specialmente il bene nel prossimo e questo è il modo più diretto per riuscire veramente a godere della venuta di Mashiach Tzitkenu che verrà presto ai nostri giorni Amen Ken Yei Razzon Shabbat Shalom a tutti Sigla finale